buongiorno buonasera sempre da Matteo Barberi responsabile marketing e strategico della soluzione per la tua formazione online virtual meeting e learning oggi volevo con voi approfondire un tema molto interessante che è il tema del social media e learning cioè quanto l'interazione all'interno di una piattaforma di learning nel vostro piano formativo è fondamentale applicare dei processi di condivisione ed interazione dei vostri partecipanti come in questo momento state vedendo esattamente l'interfaccia grafica di un utente in questo caso che sta frequentando un corso in ambito finanziario cosa notate particolarmente gli strumenti di interazione sono quegli strumenti che oggi sono posso dire non sono più qualcosa da dire lo faccio dopo non è importante o li fai o sei morto cioè nel senso che la formazione va in questa direzione da tempo oggi ti impone voi vedete avete avete mente formativo a una chat eh di interazione in real time che può attivare o disattivare ovviamente consiglio di averla sempre attivata o meglio precisare all'utente quando c'è un tutor presente durante la settimana per interagire perché i tempi imposti dal sistema non sono i vostri cioè oggi qui non stiamo ascoltando cosa volete fare voi quello che fa il mercato ok il mercato impone con delle chat in tempo reale su qualunque prodotto e servizio è ovvio che voi sto offrendo un servizio voi sto offrendo un corso ma alla piattaforma di leone non è veicolare un contenuto video ok ma è condividere un'esperienza formativa come tale è ovvio che diventa fondamentale avere la chat come da sinistra la possibilità di avere un live in cui si vanno a pianificare delle sessioni in diretta all'interno del percorso specifico in questo caso il corso è pianificazione patrimoniale percorso di formazione voluta ok sto usando un mio account all'interno di un cliente che è Fidartis per mostrare lato utente alcuni strumenti di interazione e l'utente può e questo è stato inserito proprio in questi giorni il punto è quello di poter condividere una volta che ha terminato e ha usufruito del contenuto in questo caso parliamo di contenuto audio video ok si possono caricare qualunque tipologia di contenuto l'audio video ovvio è un parametro quasi diciamo obbligatorio nei percorsi formativi di learning in questo momento ok può decidere una volta che ha terminato e ha visto il video se dare un parere diciamo per apprezzare il video perché lo crea un il classico sistema la social mi piace ok questo mi piace è un dato che arriva alla segreteria perché lo sa su quel contenuto quanti mi piace a e quanti l'ha ricevuto come voi vedete in questo momento eh vediamo se l'ho aperto vediamo se avevo un video non è questo posso sapere esattamente quanti già quanti video sostanzialmente a cioè quanti mi piace ha ottenuto quel video ok eccolo il mi piace che ha un suo perché nella nel nell'interazione all'interno di una piattaforma di learning perché faccio fare un'attività all'inche extra extra formativa all'interno di un medesimo ambiente per quello a tutti oggi viene chiesto di dare un mi piace siamo abituati con youtube instagram facebook linkedin linkedin ci consigliano però di fatto è dare un apprezzamento è diventato un qualcosa di canonico e ovviamente che poter anche monitorare quella quell'atteggiamento per capire per esempio a parità di base di scritti eh quanti eh ci sono alcuni video che hanno un maggiore apprezzamento e alcuni meno ok è fondamentale eh è un'evoluzione che stiamo studiando da tempo perché come avete già visto in video precedenti il 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 problema oggi non è eh la piattaforma il cosiddetto lms cioè il learning manager system è quanto questo ambiente diventa un ambiente prioritario per l'ente formativo ok in questo caso per l'azienda direi non solo per l'ente formativo cioè uno strumento all'interno del quale eh l'utente può eh apprezzare o commentare in qualche modo ci stiamo stiamo valutando con molta attenzione tutti i passaggi all'interno di vm learning ok eh mi siamo partiti con il mi piace perché ci permette di monitorare lato segreteria sostanzialmente quanti persone apprezzano per quello la segreteria sa che su quel video ce ne sono tre quattro cinque sei o dieci mi piace ok poi farà le sue valutazioni è ovvio che nell'area report lato segreteria sta diventando sostanzialmente una un elemento di crm come chiamerei io cioè è un è un sistema di data management no management eh perché di fatto eh ho una serie di dati che non sono solo cosa fa l'utente durante il percorso ma quanto apprezza eh ai tempi miei quando ho iniziato a certificare gli enti formativi e parliamo esattamente io mi sono certificato nel maggio duemila e uno come ispettore di secondo livello in area formazione istruzione eh l'unica cosa che interessava era la cosa da customer ovviamente di obbligare anche nel qualunque piattaforma di loro ritrovate la customer però è un elemento di per sé ehm non ci dà tutti quei dati per migliorare un processo formativo perché di fatto sono le classiche domande che si facevano alla fine in modalità cartacea allora su come era l'ambiente come erano i docenti e molte volte non venivano neanche presi in considerazione no in realtà oggi più che mai eh siamo in in si è in grado di avere anche altri dati in questo caso abbiamo i dati di apprezzamento no ok eh e questo è fondamentale eh al suo interno ma andiamo oltre abbiamo oltre tutti gli strumenti che già vi ho ribadito in termini di interazione abbiamo l'area social che è una novità dell'ultima settimana che ci permette di far che cosa eh l'utente può il costo corsista decide di condividere il profilo ogni utente può condividere un profilo con tante informazioni ok e poterlo condividere da dove nasce questa necessità di creare la parte social uno per il quale motivo che ognuno vuole sapere conoscere altri e fa parte della natura umana che avviene durante i corsi fisici e quello che viene chiamato network marketing cioè relazioni si possono continuare all'interno della community la domanda mia e di luca è stata perché devo utilizzare delle soluzioni esterne non proprietarie come facebook linkedin non faccio gruppi quando posso avere io proprietario di azienda in mano quelle relazioni cioè quelle comunicazioni e le posso io utilizzare per migliorare la mia qualità del mio servizio eh si spendono migliaia di euro in customer care allora posso permettere a loro di dire condividetele fate rete per quello fate business per quello se io ho un corso con cento duecento iscritti in ambito medicale per esempio no i medici possono interagire tra di loro per quello creo un social all'interno dove posso sapere se io condivido tutti sanno che ho condiviso il il mio eh il mio profilo questo ci permette di essere fortemente gestire la nostra la nostra analisi all'interno questo sarà pian piano stiamo testando sulla su alcuni clienti eh tutto questo lavoro è già e già noi lo siamo in versione beta ma è già disponibile da adesso per chiunque rendendosi conto che il momento in cui entra nel mondo virtual meeting entra in un mondo particolarmente oggi abbiamo stiamo valutando in roadmap un'altra funzione che sto valutando io e luca che è ancora molto interessante sempre nell'inalzare la relazione in maniera automatica che è più quello di che l'utente l'azienda non deve fare cose diverse ma può poi dovrà lavorare molto sull'aggregazione di dati ok per adesso questo è il video se volete provare vedere la piattaforma vm learning eh con questo mondo di interazione cliccate sul link che trovate in questo post e cominciate a fare il vostro business online iscriviti al nostro canale Grazie.